Perfetto, vedi questa cosa bianco, me l'illumini per favore. Io non voglio avere paura di te, tu non devi avere paura di me. Tocca il sensore. Sfiora. Sei vicino qua, sei vicino a me, vero? Hai paura del sensore. Hai paura del sensore? No. Allora perché non l'illumini? O non c'è la paura per illuminare? Eh? Eh? Come? Allora, se sei vicino a me, illumina questo aggeggio bianco per favore. Dai! Dai, illumina questo aggeggio bianco per favore. Vogliamo un po' più di energia. Vuoi un po' più di energia? Andate giusto. Ti metto pure questo, questo è un power bank, carico. Ti metto pure questo,? Ti metto pure l'energia dal uom... ok ma per ora ma per 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 vai, ora prendi tutta l'energia che vuoi, seri, e illumina il sensore, dai, se tu illumini il sensore, ma noi andiamo via, a vista, all'interno, dai, 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 prendi tutta l'energia che hai e illumina il sensore di movimento, facci vedere che tu sei non essere timido, lo sappiamo diciamo che i figliere sono illumini il padre nostro come diciamo il padre nostro? lei sta andando se ti può provarsi ancora di strano ci teniamo per mano e non vuoi vedere si vediamo la preghiera è il tempo di questo non vuoi che recitiamo l'eterno riposo l'eterno riposo l'eterno riposo l'eterno riposo ce lo puoi dire tu l'eterno riposo preferisci la Maria? la Maria no il padre nostro? no non penso quindi mi sa che tutti tutti quelli che sono tutti quelli che conosci tanto il padre nostro che altro io sono la prima bello con il padre nostro preferisci parla l'eterno ti dice qualcosa questa canzone il latino il latino ti piace? ma noi purtroppo non lo sappiamo il latino ti piace? ti piace le preghierie di latino? perché non mi scappa il sensore se stai vicino? perché contiene l'eterno 1,2,3,4? ma chi siamo? noi siamo bambini bravo l'esplante 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 la mia la mia l'esplante la mia l'esplante sono è qua sei capato ormai abbiamo capito che sei qua però sei qua in modo molto sporadico se sei qua e sei veramente forte e lui conosci qualcosa fai cadere la bottiglia per favore ma può essere fatto perché si ha messo il sigillo il sigillo il sigillo ha messo il sigillo secondo me secondo me il sigillo l'ha fatto partire da qua da qua in là e poi più un re sotto scritto sotto l'altra si sia fatto partire da qua a dietro e lo tiene chiuso quindi lui si sta concentrando per fare l'altro quindi se mettiamo il sensore di movimento e il sensore dietro non me ne vesti in teoria si perché lo metti proprio in mente dove lo puoi mettere come se lui fa un'altra dubbia sempre dietro e un'altra specie di movimento non lo possiamo mettere io lo metterei qua scusami hai detto proprio dietro 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 io ho sentito io ho sentito lo detto dietro oltre a occhio dove mettete i piedi ragazzi occhio dove mettete i piedi io ho sentito che non mi vengono e io giuro mi vengono pescare ok sei contento che hanno un po' di piedi le tonde qua c'era non hai detto mai dei signori più ma non hai visto così ho proprio un effetto qua c'erano delle flore non hai visto così quello che sembra illuminato dal sembra illuminato dal a posto abbiamo messo i sensori di un movimento dietro l'attuale dove tu sei vuole tutta la potenza per illuminarcelo per favore vai 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 e vieni vero? adesso non mi scampo puoi tranquillamente illuminarci il sensore illumina il sensore così sembra che sia una luce divina dietro l'attuale ti piace la luce divina vero? no mi è raggiungibile vai siamo completamente al buio quindi non tiriamo almeno fastidio eh eccoti sei di nuovo qui? sei di nuovo qui tra di noi? come sei andato via? continuo non ti fa non aver paura io non ti apriamo il demonio rimane dentro il demonio guarda guarda vedete dove le vada via il demonio e il demonio è il senso il senso il senso è il senso il senso è il senso il senso il purettore non si sa e non la puo e non la puo secondo me secondo me stai nemmeno in un apno? chi lo possu chi lo possiede? chi lo possiede? non mi faccio e chi ti possiede è che ti tocca? tu no no tu chi è che ti tocca? tu 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 che ti tocca te stesso? si ma stai parlando con qualcuno? stai parlando con la bambina? stai parlando con la bambina, vero? perché la bambina è quella che si vuole far bene lasciate la bambina per favore la bambina è giù? no mi piaceva bene mi piaceva giocare la bambina C'è la pimponella, la grande o la piccola? La più piccola o la pimponella? Sono inizio. C'è la patina, una da una resta e una patata. La patata? C'è pure la patata. Tranquili? La governante. C'è pure la governante. Allora, ricapitoliamo. Parroco! C'è il parroco? Salutami. Parroco? C'è la bambina? C'è la governante? Secondo me c'è anche una suora. Ecco, guarda la governante qua. Guarda la governante. C'è anche una suora. C'è la suora. C'è la suora. C'è la suora. Quindi siete in cinque. C'è la suora. E se la suora è più oltre sacerdata a tenere? C'è il parroco. Le tue bambine ci sono pure? No. No. Ci sono i genitori di... Ci sono i signori Piuma? Ancora dobbiamo capire quanti siete. Siete più di cinque. Siete sette? Qua c'è tutta la famiglia che sta pregando Bambina e di tutta la razza piuma Stai celebrando i funerali? Il sensore è dritto Ditto a noi che cosa c'è? Noi 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 Ditto a noi c'è il sacerdote Che sta celebrando i funerali? Che preferire il male dentro Però non sono convinto di tante cose Non ci dare a questo concreto Noi facciamo domani e lui risponde Sì 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 ma Senza avere un nesso tra le risposte Non sappiamo Sei il prete Sei la bambina Sei la seconda bambina Sei sono i piuma La governante Vabbè noi comunque Dobbiamo andare a mangiare Dobbiamo andare via Sei contento che andiamo via? Beh immagino di sì O vuoi che rimaniamo un'occhiavoco? Dai Dici vuoi che rimaniamo? Puoi che ce ne andiamo? Puoi che ce ne andiamo? C'è non c'è non c'è Vabbè 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 buonanotte ne andiamo via ti dà fastidio il treno che arriva? il treno ti dà fastidio fuori che passa sempre si ci ha dato risposte buonanotte la risposta concreta è che gli dà fastidio il treno che passa si ci ha dato tante risposte buonanotte se siamo un rosario vuoi che ce lo teniamo di appeso o vuoi che ce lo portiamo via? la risposta concreta grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti